Con Operazione Aquila Spezzata comincia ufficialmente la stagione di DLC di Dead Rising 3, action game next-gen disponibile in esclusiva per Xbox One. Questa prima mini-avventura inaugura quindi le storie segrete di Lost Perdidos, che ci porteranno a conoscere quattro nuovi protagonisti in eventi in qualche modo legati alle peripezie di Nick Ramos. Il DLC recupera ovviamente la struttura del titolo principale ed è disponibile al costo di circa 10 euro. Operation Broken Eagle racconta la storia del comandante Adam Kane, un soldato tutto d'un pezzo. Quando l'elicottero della sua squadra viene abbattuto, Kane si troverà da solo in un ambiente ostile e dovrà seguire gli ordini del comando. Armato inizialmente di due minacciosi coltelli tattici, dovrà girarsi per tutta Lost Perdidos, nel corso di una notte condensatissima che ci riporterà a visitare tutti i punti caldi della città. Nelle tre ore necessarie per portare a termine il DLC si scopre tuttavia una storia tutt'altro che ben scritta. Il plot è raccontato in maniera piuttosto sbrigativa, gli eventi non hanno il tempo che gli serve per ingranare e la sequenza di missioni principali risulterà quindi un po' meccanica. Sul fronte del gameplay non si sottolineano troppe differenze rispetto al titolo originale. Adam Kane condivide con Nick Ramos lo stesso profilo giocatore. All'inizio dell'avventura troveremo quindi il livello personaggio che avevamo raggiunto in precedenza con tanto di abilità annesse. L'obiettivo è sempre quello di arrivare nei punti indicati sulla mappa, massacrando l'interminabile distesa di zombie che ci troveremo davanti. Possiamo sempre combinare armi e veicoli con esiti spassosi e darci insomma ad un ripetitivo ma galvanizzante button mashing, spappolando impunemente quintali di carne putrefatta. In questo DLC si trovano nuove armi a sfondo militare. Verso la fine della mini-avventura l'allestimento di un campo base ci permetterà di avere accesso a lanciagranate congelanti e ad una potentissima chain gun. Tutta l'ultima parte del DLC si concentra abbastanza sulle armi da fuoco, con sparatorie contro altri soldati e persino una lunga sezione a bordo dell'armadillo, mezzo corazzato dotato di una spietata mitragliatrice. Anche se le dinamiche da shooter non sono certo riuscitissime, perlomeno Capcom si è sforzata di dare un sapore un po' diverso alle peripezie del comandante Kane, e i fan non potranno che esserne contenti. Un po' meno convincenti invece le missioni secondarie, poco ispirate e tutto sommato superflue. Riprendendo in mano Dead Rising 3 a qualche mese dall'uscita, si notano oggi più che mai gli evidenti difetti tecnici. Nonostante una patch, si vedono ancora alcuni rallentamenti, ed è impossibile non restare un po' interdetti dalla povertà poligonale e dalla qualità delle texture. Nonostante la visione di una loss per DDoS letteralmente inondata dagli zombie a via il suo fascino, resta il sospetto che all'hardware di Microsoft si potesse chiedere di più. Il primo DLC di Dead Rising 3 non fa troppo per distinguersi. Recupera integralmente l'ossatura del titolo originale, mettendoci nei panni di un nuovo protagonista, nella stessa città che abbiamo imparato a conoscere. L'assenza della cooperativa avrebbe dovuto permettere al team di concentrarsi sulla narrazione, ma in verità la trama è flebile e sbrigativa. Nonostante il tentativo di differenziare i ritmi di gioco, dispensando una dose sovrabbondante di armi, i risultati sono appena convincenti, anche a causa di una durata piuttosto esigua della main quest e di missioni secondarie sostanzialmente tutte uguali e mal caratterizzate.